Allora, aspetto qualche messaggio che siete in linea, voglio vedere qualche messaggio, qualche messaggio, per favore, qualche messaggio, ecco, bene, shalom, shalom, ok, grazie Armando, ecco, bravo, bravo. Allora, per prima cosa, dobbiamo sempre ricordare che noi ci vogliamo tanto, tanto bene, perché siamo tutti dalla stessa pasta, viviamo dalla misericordia e dall'amore di Hashem che ci dà la vita, ci dà tutto quello che possediamo e allora quindi siamo fratelli e sorelle e il nostro compito è di dimostrare questo sempre di più e così Hashem sarà contento col suo creato e magari ci manderà il Mosheach, come abbiamo parlato tante volte, Mosheach Lunto è una persona al di sopra dei livelli di tutta la gente e lui penserà solo per la bontà di Dio e siccome lui vive la presenza di Hashem, allora quindi dimostrerà, diciamo, la verità che esiste nel mondo e quindi siccome lui è una persona vera, le sue parole saranno accettate e così vivremo veramente una vita felice, pieno di significato e di valore. Ok, oggi, cioè questo Shabbat, si legge una parte della Torah, del Pentateaco, come viene chiamato in ebraico una parte, una Parashah e questa settimana leggeremo la prima parte del secondo libro del Pentateaco, il secondo libro della Torah che è chiamato Shemot. Shemot, come diciamo bene, Shemot bene Israele, questo sono i nomi dei figli di Iacov di Israele che sono venuti in Egitto. Adesso cercheremo di spiegare un pochino, veramente sulla Parashah come per tutto c'è da parlare un'infinità di anni però diciamo noi siamo limitati a un'ora e quindi cerchiamo di spiegare qualche cosa che migliorerà la qualità della nostra vita. Allora, in italiano viene chiamato Esodo e in ebraico viene chiamato Shemot. Allora, Shemot vuol dire i nomi. Allora, noi sappiamo che la Torah è stata scritta da Mosè, Mosè, ma è stato dettato da Hashem stesso. Ogni singola parola della Torah è la parola diretta da Hashem. E allora, siccome è la parola diretta da Hashem, e allora come Hashem è infinita, senza qualsiasi limitazione, anche le sue parole nella Torah sono senza limiti. proprio, onnipotente, anche la Torah. Ehi, anche se noi diciamo siamo limitati, un momento adesso che non sono dimenticato di spegnere il telefono, vediamo chi è. Cioè, ci sono in mezzo a lezione, adesso non posso parlare, allora ci sentiamo fra un'ora, ok? Un attimo, tua moglie a casa, tua moglie a casa. Ok. Allora, li lascio i provoloni a tua moglie. Poi ti devo pagare però, ti devo pagare. No, non ti preoccupare, guardo una roba scia, grazie. Oh, ma scoglia, scoglia, scoglia. Ciao, 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 ciao. Ciao, bacia l'ombre. Ciao, bacia l'ombre, ti voglio bene, Ciccio. Allora, spengo adesso, spengo che così non sarò disturbato. Allora, quando noi studiamo, leggiamo la Torah, allora, diciamo, noi persone limitate, allora abbiamo un messaggio anche molto limitato. Però i nostri maestri che hanno vissuto 2.000, 2.500, 3.000 anni fa, loro erano ad un livello superiore e si sono uniti con le parole della Torah. E loro sono riusciti ad avere, hanno meritato di avere una spiegazione diretto o indiretto, non lo so, però sono stati illuminati un pochino dal vero profondo messaggio della Torah. Quando arriverà Mosheach, non si deve avere timore di Mosheach, perché adesso abbiamo poco interesse di studiare, dedicare, diciamo, 18 ore, 19 ore allo studio della Torah. Grazie Mosheach, meno male che, diciamo, non è ancora arrivato, perché chi ha voglia di studiare perché 19 ore al giorno è Torah, però, quando arriverà Mosheach, capiremo il vero senso, il vero profondo messaggio della Torah, allora ci mancherà solo 19 ore e noi, come abbiamo parlato settimana scorsa, tantissime volte, studieremo non per milioni di anni, non per miliardi di anni, ma infiniti, con tanto piacere, sempre di più e arriveremo sempre a capire proprio quasi niente, perché Hashem è infinito, anche la sua Torah è infinita, allora studieremo infinitamente e capiremo sempre poco. Ok, allora noi sappiamo che c'è la Torah scritta e c'è la Torah proprio tramandata oralmente, però c'è una parte nella Torah orale, Torah Shebe Al-Pe'e, che è una parte più profonda del generale Torah Shebe Al-Pe'e. e questo viene chiamato il Midrash. Diciamo comunamente, laicamente viene tradotto come, diciamo, leggende. Tu dire, sai, hanno detto, i maestri, certe cose, ma non si capisce, allora è una leggende, però la parola Midrash viene dalla parola Lidrosh, di fare ricerche, vuol dire, hanno raggiunto queste conoscenze tramite una ricerca molto, molto profonda dopo tanto, tanto fatica, ehi, infinite ore, dedicato a capire il profondo messaggio della Torah, ehi, quando hanno capito che questo corrisponde alla verità, e allora hanno scritto questo nel Torah Shebe Al-Pe'e, perché una volta era tutta a memoria, però dopo, quando, diciamo, che la gente hanno cominciato a dimenticare, allora l'hanno scritto anche. Allora, loro, parlando dei cinque libri della Torah, cinque libri della Torah, e allora, loro si sono fermati sull'inizio della Torah, e hanno spiegato così, Bereshit all'inizio, Barah Elokim, Hashem, ha creato, allora, grammaticamente, Bereshit non vuol dire all'inizio, perché se dovrebbe essere Bereshit all'inizio ha creato il cielo, i cieli e la terra, dovrebbe essere scritta la parola Barishonah, all'inizio, questo è l'ebraico corretto, Hashem, che ha creato la lingua ebraica, sa bene il grammatico, allora, doveva essere scritto nella Torah, Barishonah, per prima, Hashem ha creato i cieli e la terra, invece, è scritto Bereshit, allora, anche lì, i maestri hanno spiegato, Bereshit è una parola composto di due, Bereshit, ci sono due cose che vengono chiamate nella Torah Reshit, prime cose, uno è la Torah e l'altro il popolo ebraico, allora, hanno spiegato i maestri beth Reshit per due cose che sono chiamate e che sono considerate primi, primici, Hashem ha creato i cieli e la terra, allora, continua la Torah, e la terra è stata bella e la terra era proprio disorganizzato, era proprio soprassato e la terra era proprio era proprio da per tutto e non è una tradizione esatta, però diciamo sto spiegando come l'intento del passuk, il ruach Elohim, lo spirito di Hashem, mi rachefet sorvolava sull'acqua, ok, cosa è la prima cosa che viene parlato con particolare, vajomere Elohim e disse Hashem che sia la luce, vajomere e fu la luce, vajar dice nel prossimo brano, vajar Elohim e taor kitò, Hashem vede che questa luce è buona, vajav dele Elohim e Hashem ha separato ben ha or fra la luce uveina hoshek e fra il buio perché era prima mescolato uno diciamo andava non c'era ancora gente però se c'era gente allora andava un passo c'è luce prossimo passo buio se voleva accendere la luce della macchina poi vajar uno andava meno male che non c'erano ancora le macchine non c'erano ancora la gente vajikra elokim laor yom e Hashem chiamò alla luce giorno bella vajoshek e abu yom kara laila chiamò note vajih erbe fusera vajih vokere fum mattina yom echad un giorno primo giorno ecco perciò siccome c'è scritto nella Torah e fu sera e fu mattina ecco perciò gli ebrei hanno questo diciamo verità nella loro vita le febbre di sabato sera sono le febbre di domenica sera perché c'è prima domenica sera e poi si arriva a domenica mattina gli ebrei accendono le candele prima di sabato ecco perciò accendono le candele 18 minuti prima del tramonto perché inizia la giornata di sabato non venerdì sera è davvero sabato sera e poi c'è sabato mattina come nella Torah e fu sera e fu mattina cioè la giornata inizia con la sera ecco quindi questa è la ragione è una cosa diciamo a parte come mai gli ebrei cominciano la giornata di sabato 18 minuti prima del tramonto perché uno non è che tutti hanno Rolex eccetera e allora quindi non sanno perfettamente i tempi e allora quando è ancora luce perché è prima del tramonto 18 minuti ci sono diverse diciamo usanze però diciamo il mio gruppo Chabad accettano 18 minuti prima del tramonto accendiamo le candele di sabato prima di sabato sera e poi c'è sabato mattina ok dicono i nostri maestri nel midrash nella prima giornata della creazione come abbiamo appena spiegato che la creazione è stata fatta per gli ebrei che applicheranno la Torah nella loro vita c'è scritto cinque volte la parola or luce guardiamo brano 3 bayomer eloquim e disse a shem yehi or pagina 2 pagina 2 all'inizio preesci capitolo capitolo 1 brano 3 bayomer eloquim e dice Hashem yehi or che sia la luce prima volta che c'è scritto bayehi or e fu la luce seconda volta che c'è scritto or la parola luce bayar brano 4 bayar eloquim et haor Hashem ha visto la luce terza volta chito che è buono bayar del eloquim Hashem ha separato ben haor fra la luce quarta volta uvena cose e fra il buio bayi kra brano 5 bayi kra eloquim laor Hashem chiamò la luce allora 5 volte nella prima giornata viene menzionato nella Torah nella Torah la parola di Hashem la parola luce allora i maestri loro erano persone perfette che hanno dedicato tutta la loro vita intelligente tutto per capire la Torah allora penso che loro sono arrivati a approfondire perché nel brano 3 bayomer eloquim di hi or disse Hashem che ci sia la luce allora Hashem ha comandato luce bayi e fu cosa fu la luce ci ha detto che sia luce e fu la luce invece c'è scritto la parola or se Hashem dice sia luce non può uscire una patata Hashem ha detto luce allora è luce allora bastava scrivere e fu ogni parola della Torah è preciso al mille per cento e allora perché c'è scritta la parola or allora dicono i maestri che ogni parola di or luce cinque volte luce corrisponde ai cinque libri della Torah ecco perciò Hashem ha fatto scrivere nella giornata di Bereshit cinque volte la parola or per significare che in ogni libro della Torah cosa vuole arrivare ad avere luce così dice il Medrash e che cosa qui che corrisponde la seconda volta che c'è scritto in brano tre al Genesi c'è scritto e fu luce cosa c'entra luce al libro di Esodo di Shmoth allora dice il Medrash che bo Yatzu in questo libro di Shmoth di Esodo Yatzu sono usciti il popolo ebraico me ha fei là dal buio completo la ora alla luce ecco perciò Hashem nella prima giornata della creazione ha scritto nella Torah la parola or per dire questo corrisponde al libro di Shmoth che gli ebrei sono usciti dal buio pesto alla luce brillante hanno acquistato la libertà hanno cominciato il loro viaggio per la promulgazione della Torah per andare in Israele eccetera 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 allora siccome il Medrash parla del secondo libro dei cinque e dice luce perché gli ebrei sono usciti dalla schiavitù nera alla libertà luminosa allora vuol dire che è stato chiamato il libro luce perché si sono salvati dalla schiavitù però il Medrash parla anche il secondo libro non so quanto l'inizio del secondo libro viene paragonato e viene chiamato luce ma ci sono tre argomenti generali nel libro di Esodo e chiamiamolo Shemot perché Esodo veramente è un nome dato da non ibrei e l'Esodo corrisponde soltanto alla prima parte del libro perché sono usciti una volta usciti non c'è più Esodo però nel Medrash chiama Shemot secondo libro tutto libro ora allora ci sono tre argomenti generali parlando di Shemot nel secondo libro della Torah Shemot uno l'Esodo dall'Egitto che questo va fino alla fine di Beshalah dopo tre passioni poi si parla della promulgazione della Torah in Parshat Yitro e poi anche in Mishpat due passioni e poi si parla della costruzione del santuario mobile che hanno accompagnato gli ebrei per 40 anni finché sono entrati in Israele e dopo quando sono entrati in Israele allora è stato trasformato in una costruzione più stabile che non adesso è il momento diciamo Yoshua stabilito proprio ok allora siccome nel Midrash viene chiamato tutto il libro Or Luce cosa c'entra la promulgazione della Torah con la luce cosa c'entra diciamo la costruzione del santuario con la luce dobbiamo un pochino capire allora mi dispiace che veramente non abbiamo più di un'ora perché c'è tantissimo da spiegare però va bene ok allora noi sappiamo che c'era la promulgazione della Torah ma è un po' diciamo da capire noi sappiamo che la Torah che è l'insegnamento di Hashem è stato già osservato dai nostri avi poi vediamo Genesi capitolo 26 brano 5 dice Genesi 26 brano 5 dice Hashem a Isacco ti benedico ai tuoi figli che saranno numerosi come le stelle nel cielo e darò ai tuoi figli siamo pagina 88 88 allora ehi tutti i i popoli della terra si benediranno i loro figli con proprio il tuo e tutti i popoli della terra si benediranno i loro figli con voi perché avete meritato questo grande onore aikev siccome asher shama avraham bikoli avraham ascoltò alla mia voce ha osservato la mia osservazione mitzvotai i miei comandamenti kukotai i miei decreti bitorotai e i miei insegnamenti Rashi il famoso commentatore della Torah lui spiega la differenza fra tutti questi mitzvot kukim mishpatim re kukim e i Torah allora spiega proprio non diciamo perdere vuol dire in poche parole avraham lui ha osservato la mitzvah di cici la mitzvah di tefillin kasheru tutta tutta si dice anche proprio anche leggi che sono stati introdotti dai nostri maestri anche loro lui ha osservato e allora se ormai era conosciuto e avraham lui ha trasmesso tutti i suoi figli e allora che cosa vuol dire la promulgazione della Torah sono già centinaia di anni che loro osservano tutte e allora che cosa mi viene a raccontare una vecchia storia allora cosa viene spiegato nella Torah nei commentari e anche proprio specialmente nella Kabbalah nel Hasidut quando avrà amma vino lui ha osservato la mitzvah di Cicit la mitzvah di Tfilin o qualsiasi mitzvah lulavi etrog eccetera allora lui era una persona che ascoltava al comando al desiderio di Hashem e la lana dei Cicci il pelle dei Tfilin sono rimasti pelle e sono rimasti lana lo spirito è qualche cosa diverso del materialismo allora anche se lui è ascoltato alla voce e al desiderio di Hashem però quella lana e quei diciamo oggetti che sono stati usati per fare la volontà di Hashem sono rimasti oggetti come prima invece quando Hashem diede la Torah sul monte di Sinai agli ebrei lui ha tolto questa separazione dal mondo spirituale al mondo fisico materiale e lui per prima ha fatto vedere la sua intenzione cosa c'è scritto nella Torah in Paschat Yitro guardiamo proprio Paschat Yitro allora capitolo 19 brano 20 allora c'è scritto bagliere da shem al har sinai pagina 272 pagina 272 siamo esodo 19 brano 20 pagina 272 allora c'è scritto bagliere da shem al har sinai hashem eshezo sul monte di sinai el ro shahar al la cima de la montagna bagliere hashem salito salito moshe guardiamo nello stesso capitolo chaf diciamo 20 20 brano quindez pagina 276 276 beh ho l'ame tutto il popolo rohime tacolot viet al apidim hanno visto diciamo i fuochi le voci eccetera viet kola shofar anche diciamo il suono dello shofar viet ha har hashem e la montagna fumava ma come mai era necessario questi effetti speciali che proprio la montagna fumava non è un filmino hollywoodiano o di cinecità che cosa serve che la Torah ci racconta quando esce fumo di qualche articolo che è stato appiccicato dal fuoco mi ricordo quando io mi sono sposato allora dai chassidim loro tanzano e per fare un pochino più interessate prendono un po' di diciamo di liquido che si mette nei accendini mettono su un capello nero dei chassidim appiccicano con fuoco e diciamo c'è un fuoco grandioso che sale dalla testa di questo ragazzo di questa chassida e il diciamo il capello fuma il capello brucia dopo che finisce questo liquido il capello è come era prima non è stato danneggiato niente perché il fuoco non ha penetrato la diciamo il feltro del del capello invece quando esce fumo quando il fuoco penetra proprio la materia fisica dell'oggetto è questo che la Torah ci vuole fare sapere quando Hashem è sceso sul monte di Sinai si è unito e ha trasformato la montagna ecco perciò è uscito il fumo e questa è la novità del Har Sinai della provocazione della Torah Hashem solo lui può sapere perché ha desiderato questo lui ha desiderato che la sua presenza permea un mondo materiale che il mondo materiale non sarà più quello che era prima ciò diversi maschi che quando loro diventano 13 anni allora devono indossare i filateri prima di 13 anni siccome loro sono ancora giovani vogliono giocare calcio eccetera quando devono andare in bagno allora fa niente la mamma diciamo farà una bella lavaggio eccetera allora quindi non possono indossare i filateri che ci sono scritti lì il nome di Hashem quando uno non è pulitissimo allora quindi non possono indossare i filateri quando non hanno raggiunto la maturazione di 13 anni si spera che loro saranno un pochino seri e allora non sporcheranno i loro eccetera eccetera allora quindi bene quando l'ho ordinato e sono arrivati un pacco e l'ho aperto tutto bene ho controllato sono caduto per terra non è successo niente perché sono ancora pelle non sono mai stato usato allora sì certo non si butta perché con quelle che costano allora non si deve rovinare però siccome non sono stati mai usati per fare il desiderio di Hashem allora sono pelli sì sono scritti i nomi di Hashem però non sono stati usati allora non hanno santità non hanno diversità dopo il mio figlio un giorno ha recitato la benedizione per rendersi conto di quello che sta facendo e ha osservato il desiderio di Hashem e poi sono caduti per terra sarebbero stati caduti per terra allora con tanta probabilità io dovrò fare un digiuno se non posso digiunare perché non sto bene devo dare 180 euro 360 euro per per perdonarmi che un oggetto che appartiene è stato permeato con proprio la presenza di Hashem è stato buttato per terra è caduto per terra e questo è l'idea della produrazione della Torah quindi cosa vuol dire luce luce vuol dire illuminazione vuol dire che si può fare qualche cosa che si può proprio migliorare la qualità della vita e questo succede quando c'è la promulgazione della Torah perché l'oggetto materiale non è più morto non è più una cosa buio ma è una cosa illuminata c'è la presenza di Hashemli e se uno avesse avuto degli occhi spirituali avessi visto che questi sono tefillin che hanno la presenza di Hashem ecco perciò anche la parte seconda del Humash Shemot allora anche quello è appartiene alla luce la terza parte del libro di Shemot il secondo libro è la costruzione del santuario che cosa si faceva nel santuario si prendeva il legno che poteva essere fatto mobile per casa è stato costruito una casa per una dimora per Hashem e in questo dimora per Hashem sono stati portati dei sacrifici che adesso non è il momento di spiegare cosa vuol dire sacrifici però sono stati portati sacrifici che vengono chiamati in ebraico corbanot avvicinamenti potevano essere usati per bistecco e invece hanno portati questi animali per avvicinare la persona ad Hashem e allora questo è una illuminazione maggiore mentre che le mitzvot sono proprio limitate alla volontà di Hashem cioè Tfilin Tzit eccetera però quando nel santuario sono stati utilizzati animali qualsiasi animali che potevano essere usati per bistecco vengono utilizzati per la volontà di Hashem questo è un'altra illuminazione che dei soggetti che potevano essere usati anche per ragioni umanistici vengono dedicati al servizio di Hashem questo è permeare il mondo materiale fisico con la luce con la presenza di Hashem e questo è la ragione perché il Midrash viene dato luce a tutto il libro dei Shemot non soltanto all'inizio noi chiamiamo questo libro Shemot perché viene chiamato il libro Shemot nomi perché leggiamo il primo brano esodo capitolo 1 brano 1 adesso andiamo che pagine in questi libri allora 196 e questi Shemot sono i nomi bene Israele però quello che ho spiegato prima vuol dire che la Torah è qualche cosa che è profondamente saggezza che è impossibile di soltanto leggerlo al comodino prima di addormentare bello 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 buonanotte e poi deve essere proprio studiato in una maniera perché Torah come ho detto è la saggezza di Hashem onnipotente quindi anche la Torah è onnipotente qui vediamo qualche briciolo però vedi come corrisponde a verità assoluta allora iniziamo il secondo libro Shemot questi sono i nomi bene Israele dei figli di Yaakov perché Yaakov veniva chiamato anche Israele Abbaim Mitzray ma che venivano in Egitto e Yaakov con Yaakov Ish uveitou bau ognuno è venuto con la sua famiglia allora Torah è perfetto e anche qui dobbiamo spiegare cosa c'entra di chiamare il secondo libro della Torah nomi sì va bene anche se inizio diciamo il libro con la parola Shemot però se Torah chiama il secondo libro con il nome Shemot nomi vuol dire che deve avere qualche significato allora cosa vuol dire un nome una persona ha un nome allora c'è la persona e questa persona ha anche un nome questo nome della persona non fa parte di lui stesso se per esempio io sono una persona che mi piace i viaggi adesso con covid allora non posso prendere l'aereo prendo il mio canoe vado in Australia e mi naufraga e vado a finire sulla isola diciamo desolato non abitato meno male che c'erano qualche albero eccetera eccetera sono lì 15 anni non c'era elettricità non potevo diciamo ricaricare il mio cellulare io mi sono dimenticato come mi chiamano non c'è nessuno che cosa mi serve il nome nessuno mi può chiamare quindi sto bene meno male che avevo sulla mia canoea avevo qualche libro di Torah potevo studiare io sto bene certamente che la mia moglie figli mi mancano i miei amici diciamo della mia lezione di facebook e youtube mi mancano però cosa possiamo fare è così allora il nome che dopo 15 anni mi sono dimenticato come mi chiamo sto bene vuol dire il nome di una persona è qualche cosa superficiale è qualche cosa che non appartiene all'essenza della persona e questa è la ragione per dire il perché viene chiamato questo libro con il nome Shemot qui si parla che gli ebrei arrivano in Egitto e poi subiscono proprio la tortura il proprio la la schiavitù però chi riceve e cosa possono i nostri nemici sottometterci soltanto ai nostri nomi non all'essenza dell'ebreo possono avere influenza soltanto sulle parti superficiali noi sappiamo che c'è scritto nel brano c'è scritto nella Gemara Berachot pagina 10 che assomiglia a Shem come crea il mondo e l'anima come da vitalità al corpo dice la Gemara queste parole ma è chiaro è chiaro che quando Hashem crea il mondo allora è un livello della potenza e dell'energia di Hashem molto limitato che crea e dà esistenza al mondo perché se Hashem come nella sua essenza dava diciamo metteva la sua energia dentro una tavola una sedia allora quei oggetti sarebbero stati senza limiti e allora non si poteva diciamo diminuirli ad averli proprio utilizzare e batterci la testa eccetera è chiaro anche se Hashem lui ha limitato e nella cabalà viene chiamato questo processo cimcumim restrizioni però se questi soggetti che sono stati creati in questo mondo non sarebbero ancora quando sono ristretti legati all'origine all'essenza di Hashem non c'è esistenza come per esempio io ho una torcia elettrica di 500 watt è troppo diciamo forte allora si mette tanti diciamo ostacoli davanti e tanti ostacoli e dopo 300 chilometri di ostacoli allora si vede qualche luce che si può leggere qualcosa che non ti brucia gli occhi allora se 300 chilometri indietro una quella che tiene quella diciamo luce di 500 watt toglie diciamo non è che ci vuole diciamo tanto tempo finché lì 300 chilometri non ci sarà la luce subito appena che io tolgo lì non c'è più niente lì dopo 300 chilometri di ostacoli che c'è luce è perché c'è attaccamento questa luce 300 chilometri indietro è la stessa cosa quando si parla della creazione del mondo che è molto limitato molto distretto zimzumim anche se ci sono i zimzumim però è sempre legato con l'essenza di asce perché senza l'essenza di asce non esiste niente della stessa maniera parliamo dell'anima della neshamah che dà esistenza al corpo non dico che dà vitalità al corpo perché anche quando l'anima parte della persona dopo 120 anni il corpo rimane ancora perché la vitalità del corpo è di un'altra fonte non è adesso il momento di parlare ok allora nella stessa maniera come parliamo di Hashem allora la neshamah è nel corpo allora chi può essere sottomesso a schiavitù a a tortura a scomodità e soltanto i nomi la parte superficiale proprio staccato dall'essenza dell'ebreo invece l'essenza dell'ebreo la sua neshamah anche se nel corpo c'è soltanto un shemot una parte molto molto limitata della neshamah perché se una persona avesse avuto dentro di sé l'anima la forza dell'anima lui sarebbe stato metteva supermano su oggi noi diciamo piccolo diciamo sarebbe stato uno capace di fare tirare modi invece cosa viene dato alla persona la neshamah che vive è soltanto come un nome una parte superficiale come hashem nel mondo intero da una piccola parte così anche una piccola parte dell'anima viene dato alla persona di vive però questa parte minima dell'anima è sempre legata all'essenza dell'anima che è una parte integrale di hashem perché se viene staccato dall'interdità dell'essenza dell'anima non c'è più niente come hashem si è staccato come questa luce di 500 watt se si stacca in un momento non c'è più luce niente allora è quello che dice il brano chi viene sottomesso sotto e parlando di oggi noi siamo nella diaspora chi viene messo sotto la diaspora soltanto una parte molto superficiale della persona molto superficiale la parte integrale della persona non può essere sottomessa non può togliere la libertà di una persona anche se lui sarà in Siberia salaria se lui è convinto che lui si è comportato come si deve lui è al di sopra di tutte queste sofferenze ecco questo che la Torah ci dice all'inizio guardi non non dovete avere timore della situazione della diaspora perché soltanto Shemot venne Israele che vengono in Egitto e oggi la stessa cosa anche se abbiamo problemi sappiamo che la ragione perché Hashem ha voluto che gli ebrei scendessero in Egitto come vi ho spiegato nelle altre lezioni è per tirar fuori la vera profonda bellezza degli ebrei perché quando uno sta in casa sua allora come abbiamo parlato il suono diciamo allora si mette snooze ancora 5-10 minuti si sta bene il letto caldo e invece quando uno è in un paese straniero che deve arrivare nel tempo nel lavoro allora si sveglia a 5 minuti prima ancora ecco perciò Hashem ha voluto che gli ebrei arrivassero in Egitto che loro dovranno migliorare la qualità della loro vita perché sono in un paese straniero come adesso qui anche quando ci sono il mio diciamo portoportiere e come mai voi non fate il lavoro di sabbath eccetera come mai voi mangiate non io vi ho invitato ai ristoranti e non cacere allora noi noi siamo amici allora devo spiegare allora qui deve studiare diciamo ecco perciò noi siamo nella diaspora per approfondire le nostre radici le nostre diciamo unioni con la Torah e con la nostra vita ecco perciò quando una persona si trova in una situazione di difficoltà allora siccome lui sa che l'anima che è dentro di lui è legato all'essenza della nishamah Hashem mi devi dare forza di superare e quando uno sta veramente costretto e ha difficoltà le parole sue sono detti con sincerità assoluta Hashem lo darà dall'essenza della nishamah e sarà veramente aiutato in tutte le maniere e questa è la ragione perché noi siamo nella diaspora dobbiamo avere covid eccetera perché con tutti covid eccetera siamo ancora addormentati e anche questo sabato non c'era bignasi io non davo a quattro allievi di venire al tempio non c'era mignani dove sono la gente i ristoranti sono tutti pieni pienissimi tempio è covid covid e allora questa situazione deve svegliarci ognuno nessuno mi chiami neanche questa settimana ho ricevuto neanche una chiamata neanche una chiamata non lo so dovrò prendere provvedimenti come vi ho detto magari diciamo non adesso è il momento di parlare di questo ecco questo è la ragione perché viene chiamato questo Sefer Shemot però Shemot è tutto diciamo il libro però diciamo il tempo è finito e volevo diciamo volevo anche spiegare perché diciamo viene chiamato la parte della promulgazione della Torah e anche diciamo la parte della costruzione però non c'è tempo volevo diciamo ancora dire una cosa che è molto sconosciuta noi parliamo della nascita di Mosè che Faraone con i suoi consiglieri hanno proprio decretato che ogni maschio deve essere buttato dentro il nilo cosa vediamo la figlia del Faraone va al nilo di fare un bagno vede una cesta con un bambino prende questa cesta è un bambino ebreo ma siccome si vede che aveva una faccia molto simpatico cosa vado a ucciderlo no 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 allora il bambino piangeva oh poverino ha fame e allora ha cercato di dare diciamo tutte le ancele che erano sposate avevano figli lui non ha voluto diciamo bere perché un Ferrari testa rossa non nasce come un Fiat 500 poi mettendo questa parte l'altra diventa un Ferrari testa rossa un Ferrari testa rossa nasce come un Ferrari testa rossa Mosè quando lui è nato allora ha già illuminato tutta la casa la mamma ha visto che lui era buono e che mamma vede il proprio fine che è brutto nessuno anche se ha un naso storto qui in bambino amma questi bambini allora che cosa dì che la Torah dice chi l'ha visto che era buono così diciamo c'è scritto guardi momento c'è scritto brano capitolo 2 pagina 198 vatera diciamo brano 2 vatera isha è rimasto è stato interessante vatera bene ha fatto nascere questo io che avevo 130 anni vatera otto kitobu ha visto che era buono vatera speneo sto sai perché lei è stato divorziato dal marito quando è uscito questo decreto che si deve buttare i bambini dentro il fiume per ucciderli allora suo marito Amram ciccia mia tu hai 130 anni noi stiamo insieme Hashem ci benedirà e allora tu avrai tante sofferenze e poi finirà non ilo allora io ti divorcio e così tutta la gente mi guarda ci guarderanno anche loro divorcieranno le loro moglie e così non ci sarà bambini che saranno proprio uccisi proprio innocenti allora lui ha divorciato la moglie Amram ha dato il divorzio alla moglie Miriam che era una bambina di 4-5 anni mamma non vede più papi qui in casa dove è andato diciamo non ci sono ancora i sfingi non ci sono diciamo torre di Pisa dove è andato a finire ti ha divorciato ma perché non ho mai visto che voi si siete diciamo litigati allora ha spiegato diciamo che il faraone è uscito con questo decreto che diciamo devono essere buttati bambini abbiamo un bambino di 5 anni senza diciamo l'educazione sessuale che ci sono a scuola papi sai che tu sei peggio di faraone ma cosa stai dicendo faraone ha decretato soltanto per i maschi e tu invece hai decretato anche per le femminucce se tu non stai con mamma non ci saranno nati neanche le femmine allora sei tu guardi papi tu mi hai insegnato dobbiamo avere fiducia in Hashem tu devi fare il tuo dovere e poi Hashem farà il suo hai ragione cara mia hai dato un bacio sul front non so sul front se non so penso che hai dato un bacio e ha risposato i ho quando lui ha divorziato non c'era ancora diciamo i mezzi di oggi non sapeva che lei era già incinta di tre mesi e allora quando lui si è risposato con lei era già nel quarto mese di gravidanza una volta che non è che si prendeva dei vestiti molto stretti allora quindi si vede che anche lei diciamo non lo so lui non sapeva e allora a nove mesi quando è nato diciamo Mosè che il nome di Mosè è stato dato dalla principessa figlia di Faraone il padre ha dato il nome perché lui è nato già con la Britannia però padre e madre hanno dato il nome Heber amico amico viene chiamato Heber perché vuol dire insieme questo bambino ci ha messi insieme l'ha chiamato Heber e allora lei ha potuto nasconderlo perché quando uno si sposava si doveva andare a registrare come oggi quando uno si sposa deve registrare al governo così anche allora si doveva diciamo iscriversi al comune e dopo nove mesi venivano diciamo i carabinieri e la polizia di controllare se c'era qualche nascita eccetera se era nascita un maschio li prendevano e buttavano dentro un ilo e allora quando è nato ha visto che lui ha riempito proprio tutta la casa con luce perché aveva una luce spirituale e allora lui quando aveva fame l'hanno messo al seno di una donna egiziana che lei ha mangiato diciamo rani eccetera tutta roba non casher io che io parlerò con Hashem mangerò mi ciberò di roba non casher ha rifiutato siccome Miriam era lì per vedere cosa succede con il suo fratello Heber e allora ha detto scusi principessa vede che ha il problema il bambino piange piange e lui non vuole mangiare magari lui non è abituato diciamo ai spezie degli egiziani lui diciamo mangia dalla sua mamma e noi abbiamo una dieta specifica chiama una signora diciamo che allatterà questo mio adottato figlio e allora arriva la mamma senti signora stai attento a questo bambino sarà mio figlio adottivo e ti pagherò per ogni giorno quando sarà svezzato mi porti guardi la figlia di faraone che lui ha detto che devono essere buttati vive dopo due anni l'ha portato diciamo e ha ricevuto paga e la figlia di faraone che si chiamava Bitia ha portato e il faraone gioca con Mosè l'ha chiamato Mosè che vuol dire in egiziano l'ho tolto dall'acqua e allora c'erano dei consiglieri che sapevano che questo è un bambino ebreo e Mosè che non era stupido e lui giocava sulle braccia di papà di faraone e allora ha visto il diciamo la corona di faraone che aveva i gioielli wow e allora lui ha preso e lo ha messo sulla sua testa farora ha visto questo e c'era lì Bilam quel mago conosciuto guardi questo è un bambino ebreo questo significa che lui toglierà da te diciamo il tuo regno io sono una persona che ho delle informazioni riservate a tutti allora quindi devi buttarlo dentro allora farò come era diciamo molto affiattato con questo bambino così carino intelligente prima di prima di ucciderlo voglio sentire i miei saggi i miei giudici se mi dicono che devo ucciderlo allora faccio allora scema ha mandato fra i saggi anche un saggio travestito cioè un angelo travestito come un saggio e farone dice guardi il mio consigliere dottore dottore bilan mi ha detto che devo uccidere cosa dite voi allora quale angelo travestito ha detto re lui è una persona intelligente che vivrà fino alla fine dei suoi anni lui è un bambino intelligente ha visto qualche diciamo pietra preziosa che l'uccidava allora lo è appreso facciamo una prova mettiamo un piatto pieno di smeraldi altre pietre molto preziosi e dall'altra parte dei carboni diciamo brucianti che sono molto luminosi vediamo se lui prenderà diciamo i brillanti vuol dire che lui capisce molto bene che cosa vuol dire brillanti allora è pericoloso se invece lui per la lucidità prenderà diciamo diciamo i carboni di tizzanti come si dice tizioni e allora Moshe che non era stupido voleva prendere diciamo le pietre preziosi allora l'angelo senza che nessuno ha visto l'ha spostato la sua mano e ha preso il carbone e siccome ne faceva male ecco perciò è diventato brabuzziente perciò è diventato ma da questo carbone diciamo ecco perciò e allora qui vediamo chi padrone del mondo è Hashem faraone potente consigliere dottor Milano dice che questo ti distrugge quando Hashem vuole tutto diventa a posto non so chi cosa pensa ma questo non sarà questo il bambino che loro hanno visto no 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 è troppo simpatico diciamo e Mosè vive in un palazzo reale fino a 18 anni 18 anni che è stato nominato capo del palazzo reale va fuori e aveva diciamo come diciamo i sindici qui non so diciamo con la fascia con la fascia non so lui era esce fuori vede che c'è un capo egiziano che sta picchiando proprio seriamente un ebreo allora non voglio entrare perché eccetera allora Mosè ha visto che proprio che lo fa con cattiveria cos'è allora ha pronunciato il nome di Hashem e quel egiziano non viveva più e è stato sepolto il giorno dopo the day after allora vedono due ebrei che loro si litigano e oh perché picchiamo perché vuoi anche ucciderci noi come hai ucciso l'egiziano vuol dire se loro mi hanno risposto così vuol dire che loro andranno a raccontare a Farone è stato proprio preso e Hashem ha fatto un miracolo lui aveva 18 anni la prossima volta che si sente di Mosè è quando lui ha 77 78 anni sono passati più di 50 anni 50 anni sono passati da quando si parla di Mosè che ha ucciso quell'egiziano e Mosè che si sposa con Zipporah dove è andato a finire e allora mi dispiace che non posso allungarmi ma il Medrash racconta che siccome Mosè doveva diventare un leader del popolo ebraico allora un leader deve sapere come essere un leader non basta studiare si deve anche sapere allora Hashem l'ha portato a Kush che è un paese al nord di Africa nel continente di Africa e racconta che lui c'era un re che si chiamava Kikanos che questo re Kikanos e diciamo quando Mosè era beno è diventato grande è stato accettato da faraone Bilam aveva paura che basta che Mosè dirà papi papi non mi piace questo dottor Bilam mettilo a posto allora Bilam aveva paura che siccome Mosè sapeva che Bilam parlava male di Mosè allora Bilam aveva paura che Mosè parlerà allora lui è scappato via a questo paese Kush e siccome lui era molto mago eccetera ha aiutato questo signor re Kikanos questo signor Kikanos allora ha preso fiducia di questo Bilam e lui aveva diciamo di fare guerra eccetera eccetera allora è andato via Bilam che lui era responsabile della sua città ha detto guardi questo Kikanos cosa lì ha aiutato io mi aiuterò io sono vostro re dobbiamo però costruire la città molto fortificato che quando lui torna dalla guerra allora non potrà entrare allora quando Kikanos è tornato nove anni è rimasto fuori perché non poteva entrare nella sua città perché è stato messo acqua intorno e poi una parte c'era diciamo dei serpenti e poi nove anni Mosè è stato lì con tutti i soldati e chi doveva dare consigli psicanalisti psichiatri eccetera perché tutte le moglie erano diciamo in città e c'erano anche problemi di diciamo di cibo strade e tutto e poi col consiglio di Mosè dopo nove anni quando è morto il re è stato accettato Mosè come re allora Mosè ha detto noi dobbiamo rientrare nella città allora l'unico modo diciamo di poter entrare è dove ci sono questi serpenti però era pericoloso i serpenti mamma mia allora lui ha dato ordine di andare a raccogliere uova di chassidà quelle che sono bianche alti uccello uccello è di colombe no grandi alti diciamo chassidà non so come cicogne chassidà in ebraico dovrò guardare mi sono dimenticato di guardare come si chiama nell'italiano e allora ogni persona ogni uno delle soldate 40-50 sono andati dai foresti in Africa ci sono tanti ognuno ha preso diciamo il suo uovo l'ha messo diciamo il tempo diciamo covarlo diciamo è seduto l'era e questo chassidà che è nato è il suo padre e madre è quell'uomo lì allora l'hanno fatto sviluppare eccetera quando erano già grandicelli hanno insegnato come diciamo di volare poi Mosè dice per tre giorni non dateli da mangiare e allora dopo tre giorni Mosè dice ognuno prende il suo cavallo prende la sua spada affilata andiamo alla parte dove ci sono questi migliaia 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 di sapete e lasciate i vostri chassidà i vostri uccelli mangiate voi siete già a digiuno tre giorni mangiate hanno consumato tutti diciamo i serpenti questo è tutto raccontato proprio nel come nel Midrash e sono entrati nella città da questa parte che non c'erano più i serpenti e il Bilam ha visto questo allora lui ha preso i suoi due figli e i suoi fratelli e sono scappati via e sono tornati in Egitto cioè tornati in Egitto e guardi tutto e lui era re in Kush in questo paese africano per 40 anni per 40 anni ha cominciato a 18 anni 58 anni poi c'era la regina la moglie di Kikanos lui non voleva sposarsi con lei perché lei era una figlia di Kenan e allora non si poteva sposarsi con una figlia di Kenan allora perciò la moglie ha detto guardi ragazzi lui non vuole sposarmi allora che tipo di re avete voi allora lui è stato bravo ci ha insegnato datelo qualche regalo e ditelo ciao arrivederci prendete mio figlio chi sarà ora e così Moshe è andato via è andato a finire a Midian dove diciamo ha incontrato Yitro e ha raccontato che lui è stato in Cush eccetera e siccome Yitro suocero di diciamo di Moshe e il suocero di Moshe lui aveva un rapporto buono con questi Cush allora si è stato mandato via lui ha detto che è re vuol dire che lui ha fatto qualche guaio allora l'ha messo in prigione proprio abbandonato Cipora la sua figlia che era una brava ragazza ha visto che questo è un bravo uomo e lei di nascosto ogni giorno portava cibo eccetera passati dieci anni che lui era in questa diciamo prigione in mezzo al deserto che non si poteva uscire aveva già eh cinquant'anni cinquantotto dieci anni eh sessantotto anni dieci anni no allora è cinquant'anni eh quarantanove anni più diciotto quanti sono fuori noi sessantasette sessantasette e poi dieci anni era nella 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 prigione settantasette allora dice Cipora papi ti ricordi che dieci anni fa è venuto quello quello diciamo da da Cush non hai visto neanche se lui vive ancora o che lui è un mucchio di 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 ossa ma quando diciamo tu hai parlato con lui e lui ha detto che lui è origine ebraico magari Dio ha fatto un miracolo con lui lei non ha raccontato a papà che lei stava dando a lui cioè ci cuore papà va lì un miracolo allora l'ha fatto uscire ehi l'ha portato in casa sua perché è un miracolo dieci anni che non mangia e vive ancora allora Yitro lui era uno dei tre consiglieri di faraone faraone aveva il consigliere bilam aveva un consigliere giove e aveva un consigliere Yitro e quando lui ha parlato cosa fare con il problema ebraico allora Yitro ha detto non devi fare niente lasci che loro vivano la loro vita e noi dobbiamo rafforzare i nostri soldati eccetera però non si deve fare male a loro c'è un buon Dio e loro hanno un buon Dio stai attento allora faraone era molto inquietato con Yitro arrivederci hai perso il tuo lavoro e allora Yitro siccome lui era consigliere allora era molto vicino perché lui era un prete prete diciamo conosceva tutti diciamo la religione sapeva anche della religione ebraica però lui era e allora sapeva che Yosef aveva il bastone che Hashem ha dato ad Adam Arishon Adam Arishon ha dato che è arrivato Avraham poi a Yitzchak poi a Jacop e Jacop ha dato a Yosef perché l'ha soppolto diciamo allora quando Yosef e tutti i fratelli sono morti è rimasto in casa di Yosef quando Yitro è andato via da Egitto ha preso quel bastone che c'era il nome del tetragramma di Hashem su questo bastone e l'ha piantato dentro il suo giardino e il tippor era una bellezza unica Miss Universe proprio wow 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 e allora c'erano tanti diciamo pezzi di 90 persone diciamo di generale che volevano la mano di cipora per avere la mano di cipora devi togliere quel bastone dalla terra nessuno è riuscito a a togliere penso che c'è una storia di Walt Disney penso che è basata su questo e allora Mosè quando è stato dopo dieci anni nella prigione lui è venuto a casa di dietro ha voluto ringraziare Hashem è entrato fuori diciamo nel giardino e comincia a pregare e vedi proprio un bastone con il nome di Hashem allora è andato a prendere con me quando gli ho visto questo allora tu sarai il marito di mia figlia allora bene allora quindi i ragazzi mia moglie mi dice ok arrivederci alla prossima settimana se Dio vuole parliamo avanti un'ora alla settimana però diciamo se voi volete di più allora voglio vedere almeno qualche telefonata qualche diciamo soldo chi entra perché anche un rabbino deve anche fare la spesa eccetera ok vi voglio tanto 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 bene ecco perciò vi parlo come come due amici come proprio fratelli e sorelle ecco perciò vi dicono voi siete già stufati eccetera no qualche bene allora shalom kshem vibenedikah shalom 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 shalom